Ben trovati, avrei voluto ricominciare nero su bianco parlando della vittoria dei giallorossi in quella di Roma, invece purtroppo dobbiamo celebrare una sconfitta ingiusta, perché male che vada si doveva portare a casa un risultato di pareggio, ma con una certezza, noi ci salveremo, la Roma difficilmente potrà competere in Europa, visto gli alti e bassi di Murigno, ma attenzione la furbizia comunque di un qualcuno che è un campione di schierare proprio negli ultimi minuti per poi far vincere i giallorossi capitolini fuori dai 90 minuti regolamentari, quattro attaccanti, un po' come il Lecce avrebbe dovuto assumere una scelta e decisione netta, non giochiamo più, ci schieriamo tutti davanti alla porta, tutti e 11 e vediamo cosa mai può succedere in caso di attacco della Roma, logicamente sto cercando di banalizzare per dire che forse si doveva essere certamente più accorti, certamente meno superficiali rispetto alla volontà di giocare e avremmo portato a casa tre punti ulteriormente d'oro che nelle tasche non ci sono, ma sicuramente nella mente di ogni giallorosso permangono anche se le critiche di perdere dal novantesimo minuto in poi 2 a 1 mentre si vinceva 1 a 0 sono delle situazioni incresciose che non fanno star sereni tutti quanti coloro che tifano ogni domenica per i colori del Lecce. A domani.